C'è sempre un'importante mission che è quello di promuovere la vela, ci sono però anche delle difficoltà. Continuano a esserci le difficoltà, ci siamo sentiti l'anno scorso e siamo di nuovo qua praticamente con un nulla di fatto, nonostante un bel porto, delle strutture che potrebbero essere usate, e siamo lì che come negli altri anni, costretti a essere in magazzini, lontani anche dal mare, cercando comunque di resistere, di portare avanti i ragazzi, continuando a organizzare grandi manifestazioni. Quest'anno le vele d'epoca sono state un successo, un successo anche di organizzazione, riconosciuto da tutti i regatanti, quindi ci sono gli uomini, ci potrebbero essere i ragazzi, non ci sono i locali. Manifestazioni importanti, ecco, sottolineiamo, a tutte le vele d'epoca, altri eventi? Beh, l'altro evento sarà dall'8 all'11 dicembre, noi come Porta Maurizio Yacht Club siamo in appoggio allo Yacht Club Imperia, con l'Imperia Winter Regatta. Già oggi ci sono un gran numero di iscritti tedeschi, mi sembra austriaci, poi qualche spagnolo, già adesso che siamo abbastanza in anticipo, quindi credo che come tutti gli anni toccherà le 200 imbarcazioni da tutta Europa e anche qualcosina fuori Europa. Quindi le manifestazioni, come dico, ci sono, la volontà di fare c'è e continuiamo a aspettare e sperare. C'è un messaggio che però possiamo lanciare a chi può darvi effettivamente, concretamente, una mano? Ma il messaggio è molto semplice, cioè di capire, vorrei capire come mai, ho letto ancora oggi, di altri sport che hanno ricevuto spazi, hanno ricevuto possibilità di svilupparsi e ne sono felice, non è invidia, ne sono felice e non riesco a capire come mai noi continuiamo a essere in un angolo. Tante volte mi chiedo se sono io gli amici che fanno sport e non lo so. Serve una delibera o qualcosa di più? Serve la volontà, la volontà perché, come ripeto, c'è tutto. C'è tutto, basta solo la volontà di riconoscere che lo sport della vela è uno sport molto importante. In altre parti d'Italia e del mondo è un grosso volano turistico che muove migliaia di persone. Imperia non lo apprezza.